Un saluto al mio amico Master Inventorista perché ragazzi il suo Padova ha appena vinto col Sud Tirole la Coppa Italia di Serie C e quindi battendo il Sud Tirole si pregiudica anche un fine stagione di campionato molto intenso perché ci deve rigiocare col Sud Tirole Due punti di distanza dal Sud Tirole il Padova Attenzione, gran gol di Jelenic che mette in porto la partita già a metà del secondo tempo entrano Chirico e i compagni dopo Padova finisce in 10 ma una gran prova di forza, di squadra, di collettivo li ha fatti trionfare nella Coppa Nazionale di categoria e allora attenzione all'assalto finale alla Serie B del Padova perché ci può anche stare visto il momento di forma del Padova e visto il momento di forma del Sud Tirole attenzione, attenzione, io ve lo dico, ve lo dico, io ve lo dico io ci becco quasi sempre il Padova per me ce la farà lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella il Padova è campione d'Italia di categoria Lega Pro incredibile 0-0 all'andata gol di Jelenic al ritorno quanto basta per portarla a casa per alzarla in faccia ai 10 rimili vali del girone incredibile 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 e niente buona serata a tutti e ancora grande Mustang aspettiamo tutti il tuo video